Buongiorno a tutti, sono Danilo Girelli. Oggi vi presento alcune calzature del calzaturificio Soldini per il settore del soccorso. Per chi non lo conoscesse, il calzaturificio Soldini è un calzaturificio storico di Arezzo che produce in Italia calzature sia per il settore civile che per il settore professionale. Per il settore professionale si intende tutte le forze dell'ordine, perciò dall'esercito alla marina, alla polizia, ai carabinieri, alla finanza e a tutta la polizia locale. E produce inoltre alcune calzature per il settore del soccorso. Soccorso si intende protezione civile, pubblica assistenza, tutto il resto del soccorso sanitario, 118, croci, misericordie. I modelli principali per quel settore sono tre. La 484, la 983 e la 391. La 484 è una calzatura pensata per chi fa soprattutto servizi, perciò fa lavori d'ufficio, trasporti, dializzati, dimissioni, ricoveri. È una calzatura molto leggera, non è una scarpa bassa, non è uno scarponcino, ha questa altezza media, pensata per essere molto comoda anche per chi guida spesso. Il tessuto è in nylon, la parte inferiore, il battistrada, è in poliuretano, ha una lamina tessile antiforo e il puntale antischiacciamento in materiale composito. È certificata in S3, idrorepellente, e in SRC. La 983 è una scarpa più tecnica, pensata invece per chi fa tanto soccorso, tanti interventi, perciò la suola è in gomma, il battistrada, con questo grip molto evidente, molto marcato, per essere bene aderente al terreno. La gomma rispetto al poliuretano resiste molto di più all'abrasione, resiste molto di più agli idrocarburi, anche in inverno rimane più morbida, perciò più aderente. La lamina antiforo è sempre in materiale tessile, il puntale in materiale composito e c'è questo copripuntalino che serve a proteggere la punta quando l'operatore lavora in ginocchio. Il materiale tessile in questo caso è un cordura, perciò più resistente all'abrasione rispetto al nylon e oltre a essere certificata in S3, idrorepellente, è anche VR, perciò completamente impermeabile grazie a questa membrana che la rende appunto impermeabile traspirante. È certificata anche HRO, che è la resistenza per calore al contatto della suola, è certificata HI e CI, isolamento dal caldo e dal freddo, e naturalmente in SRC, che è l'antiscivolamento. Dalla 983 deriva la 391, che è un anfibio, rispetto alla 983 è più alta, con tutte le stesse caratteristiche e ha questa cerniera che permette di indossarla e toglierla molto velocemente. Le calzature sono prodotte la 484 in taglie che va dalla 35 alla 48, la 983 e la 391 in taglie che vanno dalla 34 alla 50 e sono sempre disponibili a magazzino. Bene, spero che vi sia stato utile, nella descrizione come sempre trovate i link ai prodotti che abbiamo utilizzato e i miei contatti. Se volete vedere altri video come questi iscrivetevi al canale. Anche per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima.